Quinta tappa della Vuelta in Spagna, un'altra volata, la prima però in piano, a Siviglia, ha vinto Pavel Binder, non mi soffermerò sulla tappa di oggi, anche perché se ne sarà già parlato in altre sedi, e perché voglio fare un passo indietro e neanche parlare della tappa di ieri, ma parlare di chi non c'era ieri, di chi non c'era neanche oggi, è un argomento di cui ho già discusso in edizioni di riunioni tecniche passate, perché questa scelta di Pogacar di non partecipare alla Vuelta non mi convince del tutto, perché? Perché non credo sia una scelta che abbia convinto nemmeno appieno Pogacar. Pogacar ha iniziato la stagione con l'idea di provare a vincere Giro e Tour de France, una doppietta che mancava dai tempi di Pantani, ci è riuscito, ci è riuscito con ampio margine anche per le sventure o corse nel corso della stagione a Vingegaard, nel mezzo ha anche vinto una Stade Bianche, una volta a Catalunia, un Liegi-Basto-Liegi, ha vinto tutte le corse a cui ha partecipato, le ha dominate più che vincerle, e forse anche per questo l'idea che mi sono fatto io e con me tanti altri era che anche alla Vuelta, pur non arrivandoci magari al 100% della condizione, prendendosi magari un pochino di pausa, di riposo dopo il Tour de France, potesse comunque vincerla, magari non con il margine con cui ha vinto Tour e Giro, ma comunque insomma crescendo di condizione nel corso delle tre settimane e andando a conquistare una tripletta che sarebbe stata leggendaria, perché nessuno, non solo ci ha mai riuscito a conquistarla, ma nemmeno ci ha provato, anche per ragioni di contingenza, per ragioni di calendario era impossibile in tempi passati provare la tripletta, però io sono, per quello che ho imparato a conoscere Pogacar, è un corridore a cui piace entrare, fare qualcosa che non ha mai fatto nessun altro, vincere corse che non ha mai vinto in carriera e fare cose che davvero non sono mai riuscito a nessuno, e questa era un'occasione irripetibile, io non posso credere che Pogacar davvero fosse così stanco dopo questo Tour de France, visto come l'ha concluso, né fisicamente né mentalmente, è arrivato fresco come una rosa, carico, per quanto il mondiale sia chiaramente il suo focus principale, perché ancora non ne ha vinto uno, e torniamo a quello che ho appena detto, nella sua carriera, però poteva anche partecipare a questa vuelta con l'idea di prepararsi alla corsa in linea di Zurigo, tanto più dopo aver deciso, per ragioni insomma non del tutto chiarite, di non prendere parte alla scorsa Olimpiade, avrebbe potuto staccare una settimana dopo il Tour de France, cosa che ha fatto, e poi iniziare a prepararsi per il mondiale pensando di partecipare alla vuelta, iniziandola magari anche a fare i spenti, per quanto quasi impossibile per un po' Gacar iniziare a fare i spenti, e poi crescere le condizioni nelle tre settimane e andare a vincere. Ieri, insomma, l'ordine di arrivo ci racconta di sei corridori su dieci dei primi che hanno partecipato all'ultimo Tour de France, solo Roglic tra questi non lo ha concluso, certo, non hanno fatto anche il giro, certo, alcuni di loro, mi viene in mente Mass, per esempio, non ha fatto classifica, però, insomma, c'era la possibilità per Pogacar di entrare veramente nella leggenda, il primo uomo a conquistare i tre grandi giri nella stessa stagione e chi mai sarebbe riuscito a impensierire questo suo record per chissà quanti anni poi. Quindi un po' di amaro in bocca me lo lascia, dall'altro canto dico anche che Pogacar ci ha fatto un piccolo regalo, perché dopo aver dominato di lungo e largo giro e tour, quantomeno alla Vuelta, sperando in produzione video di qualità superiore, potremo assistere sulla carta a uno spettacolo più aperto, perché Roglic si sta correndo da padrone, ma siamo poi così sicuri che sarà padrone fino alla fine? Ho i miei dubbi, per quanto ieri la UE Emirates non abbia espresso il massimo del suo potenziale, c'è Almeida, 8 secondi in classifica generale, però ecco, ancora, ripensando alla scelta di Pogacar, lavora fatto per lasciare spazio ai suoi compagni? Ma di fatto l'unico ad approfittarne, a giovarne, sarà eventualmente Almeida, perché Yates è già uscito di classifica e non penso che Sivakov possa ambire ad altro. Aiuso doveva essere la via di questa Vuelta, probabilmente era stato anche promesso a lui, come ad Almeida, che sarebbero stati capitani, co-capitani di questa corsa, in cambio della loro collaborazione nei confronti di Pogacar, l'ultimo Tour de France, collaborazione che per Aiuso è mancata e da qui sono nati anche dei problemi che tuttora non si sono risolti. Quindi, insomma, a volte bisogna prendere il treno quando passa, perché rischia di non passare più, caro te dei, e secondo me a questa Vuelta dovevi esserci anche tu.